Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Primo grado, il Comune di Teramo è stato condannato a pagare tra i 4 e i 5 milioni di euro all'IZS. Sì, sono ai 4 milioni e mezzo, c'è la prima sentenza, quindi il Comune di Teramo dovrà pagare questi denari all'Istituto Zoprofilattico. Ma questa era una cosa risaputa, abbiamo documenti chiaramente emanati dall'Avvocatura del Comune di Teramo. Raccontiamo la vicenda, un'area destinata a parcheggio di proprietà del Comune di Teramo che poteva essere, tra virgolette, regalata all'IZS e chiudere altre cause in corso. Sì, due cause civili che avevamo appunto questo contenzioso con l'Istituto Zoprofilattico, si raggiunse a un accordo, davamo l'area antistante all'Istituto e in cambio andavamo ad annullare queste due procedure. Queste due procedure che a detta dall'Avvocatura del Comune di Teramo eravamo socconventi. Questa amministrazione ha bloccato tutto, mancava solo la firma dal notaio, sono stati così bravi ad annullare tutto con un litigio fra Verna e la Di Pasquale. Questo litigio ha portato, la procedura si è bloccata e oggi abbiamo la prima sentenza, la prima sentenza che con danno il Comune di Teramo a pagare, cioè quello che già sapevamo. A mio avviso è un danno irreparabile che si sta facendo a questa comunità, a mio avviso si dovrebbe dimettere Verna, si dovrebbe dimettere il Sindaco. Perché? Perché noi abbiamo lasciato in eredità 5 milioni di euro che era appunto dovuto al sisma e ha permesso a questa città di ripartire. Loro lasceranno 4 milioni e mezzo di debiti, per far capire alla gente i danni che stanno facendo questi amministratori, se così li possiamo chiamare.